Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Krix, oggi ragazzi siamo qui con un vlog un po' particolare ragazzi Un vlog di notizie, giornalmente insomma come volete chiamarlo E ragazzi prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace a questo video perché è veramente importante E nulla ragazzi lasciate un mi piace alla pagina di Facebook che ovviamente trovate in descrizione Allora ragazzi nulla come vedete ho cambiato un attimo location perché ragazzi mi trovo più semplice Ecco spostare insomma la webcam davanti al computer invece che parlare là insomma dove l'avete sempre vista precedentemente E ragazzi nulla allora volevo parlarvi insomma di alcune novità che ci sono appunto nuove novità che appunto volevo parlarvi La prima novità volevo parlarvi che ho un mio amico modder che praticamente fornisce dei codici della mappa Nuketown Di Black Ops 3 appunto per Playstation 4 e anche per tutte le console Quindi ragazzi io se fosse in voi vi consiglierei appunto di darvi insomma di dargli un'occhiata Vi lascerò chiaramente il link del suo profilo Facebook in descrizione Quindi ragazzi se casomai vi servissero dei codici per la mappa Nuketown appunto potete insomma andare da lui E chiedergli ovviamente ragazzi non gratis quindi a pagamento A me ragazzi l'ha fornito gratis perché ho detto vabbè io ti do la mappa il codice della mappa Nuketown Poi tu mi capi o mi sponsorizzi oppure mi fai un po' di pubblicità Quindi ragazzi eh sì insomma vi faccio un po' di pubblicità quindi se vi serve appunto il codice della mappa Nuketown Potete passare in descrizione insomma dal profilo del modder E poi ragazzi non so quando durerà questo blog chiaramente è improvvisato non sto leggendo da nessuna parte Infatti ragazzi se non è tanto guardo in basso perché appunto qui c'ho la web che mi stanno vedendo E volevo anche dirvi che molto presto arriveranno anche dei fact time insieme a mio fratello Oppure anche insieme ad altre persone della mia famiglia come anche mio padre insomma ragazzi non lo so E volevo anche dirvi che potranno esserci anche delle challenge appunto qui sul mio canale Insomma potete vedere delle challenge Quindi ragazzi iscrivetevi nei commenti insomma quale challenge vorreste vedere Tipo non so magari una challenge non so una whisper challenge Oppure boh ogni morte scambio di gamepad Oppure ogni morte una rischia al gusto con mio fratello raga Insomma volevo appunto variare un po' i contenuti sul mio canale Quindi ragazzi appunto scrivete voi nei commenti quale insomma quale serie vorrete vedere Insomma vorreste vedere qui sul mio canale Volevo anche portare ragazzi nuove serie riguardo appunto nuove serie del canale Insomma infatti ragazzi volevo portare Clash Royale Però effettivamente c'ho un pc che fa abbastanza cagare Quindi ragazzi non so effettivamente come potrebbe andare la registrazione Anche perché mi serve un overlay insomma una grafica da mettere intorno al video per non far vedere i bordi neri Anche se comunque sia sono grafico e appunto voi lo sapete infatti ragazzi per chi non lo sapesse sono anche grafico E appunto quindi se vi servissero loghi o banner per i vostri canali youtube Io sono a disposizione quindi basta che mi iscrivete anche sulla pagina di facebook insomma ci mettiamo d'accordo lì Chiaramente non gratis quindi nulla Poi non so ragazzi come state vedendo qui ho la finestra aperta Perché praticamente ragazzi è arrivata la primavera e già che il tempo inizia già un po' a cambiare Insomma già si sta un po' bene o meglio già si sta un po' meglio fuori ecco Perché prima dovevi indossare i giubbotti cazzi e mazzi insomma ragazzi Ti dovevi raga imbottire ecco Prima per uscire fuori insomma per uscire con gli amici Invece mo con la primavera insomma che è cambiata ieri ragazzi Oggi è 21 si no ieri era 20 insomma domenica Però dai devo dire che appunto con l'arrivo della primavera diciamo che mi sta tornando appunto Mi sta tornando una voglia bestiosa di fare video E magari ragazzi appunto io spero che i video che porto vi stiano piacendo ragazzi E volevo anche dirvi o meglio ho parlato con alcune persone ragazzi Alcuni miei amici che li saluto amici youtuber appunto che li saluto E che mi ha detto appunto di variare un po' con i contenuti sul mio canale Perché insomma portare sempre gare non è che sia tanto come dire Non è che cattura molto pubblico ecco Quindi ha detto non so tu vari un po' nel canale insomma vedi cosa puoi portare Chiedo agli iscritti anche cosa vogliono vedere E nulla raga quindi appunto scrivete un po' nei commenti voi cosa vorrete vedere insomma Come la serie sul mio canale Perché ragazzi io appunto ripeto volevo portare insomma Black Ops 3 come video secondario Ma fa parte ragazzi a parte di Black Ops 3 appunto parlando di Black Ops 3 Sto migliorando veramente tantissimo ragazzi Da quando voi vi avete detto di abbassare la sensibilità della visuale e della mira Sono ragazzi veramente migliorato tanto Ultimamente in partita faccio sempre tra le 10 e le 16 kill E tra le 4 e le 8 death Quindi cioè non male micchia 16-8 ragazzi ho rate a 1 quindi E appunto sto migliorando quindi ragazzi se volete o meglio se volete vedere appunto Video di Black Ops 3 insomma se volete Se volete che io continui la serie di Black Ops 3 appunto Fatemelo sapere con un like qua sotto E raga devo sistemare un po' la webcam Vabbè sti cazzi tanto Dovrò cambiare ragazzi un'altra webcam insomma La metterla vicino al computer o meglio la metterò una qui al computer Un'altra lì alla televisione insomma per registrare E come state vedendo ragazzi ho anche cambiato Ho fatto anche cambiamento la postazione Infatti ragazzi come state vedendo il microfono adesso è qua Mentre prima era più o meno qua insomma ragazzi era più o meno qua ecco Ho voluto fare questi cambiamenti per avere insomma anche il microfono un po' più vicino In modo da come dire migliorare insomma la mia voce ecco Per farla sentire meglio Quindi devo dire che dai sono abbastanza contento di come ho modificato la postazione Manca ragazzi manca effettivamente manca l'elgato I pannelli sono assorbenti e poi devo dire che la postazione sarà Come dire insomma sarà completa Infatti ragazzi devo mettere i pannelli sono assorbenti qua al muro E anche qui dietro la scrivania insomma in modo appunto da migliorare l'audio insomma del microfono Per non far sentire ancora più rumore insomma E poi ragazzi parlando del microfono dovrò anche cambiarlo ragazzi Devo prendere il Samsung Meteor Però non so quando effettivamente Perché adesso ragazzi arrancio con questo Tanto col filtro antipop devo dire che comunque sia falso effetto insomma Cioè come state vedendo adesso che parlo Beh insomma mi sentite ragazzi pure bene E poi chiaramente ragazzi nel editing miglioro insomma Miglioro l'audio insomma lo alzo lo modifico un po' E quindi faccio in modo che venga abbastanza netto O meglio abbastanza chiaro ecco fluido Senza interruzioni nei rumori di sottofondo eccetera Quindi devo dire appunto che la mia postazione è quasi ultimata E poi manca appunto l'elgato Il microfono che dovrò cambiarlo Però per il momento ragazzi avanzo con questo E poi boh raga non lo so Devo prendere la webcam Logitech C920 Perché ragazzi questa con quale sto registrando adesso È la C270 che comunque sia La sua qualità ce l'ha insomma Ha una qualità di 720 pixel Insomma poi renderizzando appunto il video Devo dire che la qualità è appunto È sufficientemente buona per insomma Uno che fa gameplay come me per esempio E poi boh raga quindi appena mi arriveranno tutte queste cose qua E credo dovrebbero arrivarmi non so quando ragazzi Anche perché devo ancora ordinarle Perché al momento non c'ho soldi Perché sono un barbone di merda E quindi appena mi arriverà appunto Tutta questa roba qua Ci farò un video a riguardo Sicuramente tramite la mia postazione Insomma potete vedere appunto come sarà E insomma potete esprimere i vostri pareri E poi ragazzi sul mio profilo di Facebook Appunto ho postato una foto della postazione Quindi se volete andare a vederla Vi lascerò appunto il link in descrizione Chiaramente trovate il link in descrizione Del mio profilo pubblico di Facebook Chiaramente non privato Magari quello privato lo inizierò a mettere Però per la via dei 3000 iscritti Insomma Ah raga ho notato che siamo anche vicinissimi Al traguardo dei 1000 iscritti Insomma stiamo recuperando veramente tantissimo Circa in 3 mesi abbiamo fatto 1000 iscritti E sono veramente contentissimo Anche se ragazzi molti di voi Nella maggior parte appunto La maggior parte degli iscritti al mio canale Si sono inattivizzati di nuovo E la cosa mi ha lasciato veramente senza parole Ho detto cioè Porca puttana Si sono inattivizzati Cioè Non c'ho parole Cioè non ho parole Ci sono rimasto abbastanza di merda Però io comunque sia Continuo ad andare avanti Perché so che prima o poi Insomma Arriverà gente I quali piace vedere tutti i miei contenuti Che porto sul canale Appunto Non solamente GTA o COD Perché appunto voi Iscritti al mio canale Siete appunto Come dire Fanatici di GTA Però Io raga non posso portare sempre I video di GTA Perché appunto il mio È un canale di gaming Però non è un canale di GTA 5 Dei gameplay Insomma Gameplay di GTA 5 Quindi vorrei anche variare Portare appunto Novi contenuti sul mio canale Quindi ragazzi Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Se volete vedere Appunto Novi video E Novi giochi Ecco sul mio canale Quindi raga Porterò Continuerò anche a portare I video di The Crew Perché ho notato Che a molti di voi piace Mi avete chiesto anche Una guida su come fare soldi infiniti E molto probabilmente Ve la porterò Però ragazzi Almeno questo vlog Voglio 100 like Per questo vlog ragazzi E vi porterò una guida Su come avere i soldi infiniti Su The Crew E quindi raga Niente Vi ho parlato insomma Di queste nuove novità Insomma ragazzi Appunto volevo parlarvi Di alcune novità Insomma di queste nuove novità E niente Penso che questo vlog Si chiamerà Arrivata la primavera Forse di si ragazzi Forse non lo so E quindi ragazzi Direi che per questo video Può essere tutto Appunto volevo Parlarvi insomma Di questo modder Che fornisce i codici Della mappa Nuketown Di Black Ops 3 Per tutte le console Quindi se volete Passare dal suo canale O meglio Passare dal suo profilo Facebook Perché non so se è un canale Comunque sia Vi lascerò il link Del suo profilo Facebook In descrizione E chiaramente non gratis I codici Quindi non so quando dovete sborsare Però a me le ha fuori di gratis Perché appunto Ha detto Io ti do il codice E tu in cambio Mi fai un po' di pubblicità E io gli ho detto Che non poteva guadagnare molto Perché appunto Ho gli iscritti inattivi Quindi non so quanta gente Insomma andrà da lui Per i codici della mappa Nuketown E quindi boh Volevo anche appunto Parlarvi delle nuove serie Che volevo portare su questo canale Ragazzi Quindi fatemi sapere voi Cosa ne pensate Insomma Quali serie volete vedere Volevo anche dirvi Che molto probabilmente Arriveranno anche Delle challenge appunto Con mio fratello O magari anche dei fact time Con mio fratello Come il fact time Che feci in diretta Sul mio profilo pubblico Di Facebook Che quella sera Ragazzi Non avevo un cazzo da fare E quindi E quindi ho detto Vicino a mio fratello Ho detto Ok facciamo una diretta Magari vediamo qualcuno Che arriva Facciamo un fucking live Proprio su Facebook E quindi boh Devo dire che è andato Abbastanza bene Eravate molti E sono abbastanza felice Appunto Sono rimasto abbastanza felice Con me Io ho contento Del risultato Del supporto Che mi state dando Ho notato ragazzi Anche che nelle live Mi state dando Veramente un grandissimo supporto E vi ringrazio per questo Quindi raga Non so appunto Io vi prego di restare Comunque sia attivi Vi ricordo che in descrizione Ecco trovate il mio canale di Telegram Quindi ragazzi entrate Perché il canale di Telegram È veramente importante Quindi raga Io penso di aver detto tutto Sì appunto Vi ho parlato Insomma del Del modere che finisce I codici della Mappi Nuketown Vi ho parlato appunto Delle nuove serie Dei nuovi giochi Che volevo portare sul canale Quindi ragazzi Direi che per questo vlog Video vlog di aggiornamenti Può essere tutto Ragazzi chiaramente Il video vlog di aggiornamenti Arriverà una volta a settimana Chiaramente di sabato Quindi non so Quando caricherò questo vlog Perché insomma Per i prossimi giorni Ce l'ho i video Oggi è 21 ragazzi Ma ragazzi sarà Pasqua Quindi io vi auguro Una buona Pasqua Già in anticipo Appunto Quindi ragazzi Passate una buona Pasqua Mi raccomando Non a mangiare tanto Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto In tal caso Vi ricordo di lasciare un piaccio A questo video per supportarmi Iscrivetevi al canale Per altri contenuti Ragazzi se siete nuovi Quindi niente Vi ricordo che in descrizione Trovate Facebook Instagram e Twitter Quindi ragazzi Seguitemi su tutti i social network Che ovviamente trovate in descrizione Quindi nulla ragazzi Vi ricordo anche che in descrizione Trovate il link Del mio canale di Telegram Quindi se volete entrate Perché appunto Siamo in 54 novembri Quindi ragazzi Più siamo E meglio è Quindi ragazzi Che dire Quarecrix è tutto Vi spero che il video Vi sia piaciuto Se è così è stato Pollicione in su Commentate e condividete Quindi Quarecrix appunto È tutto Io vi saluto Vi ringrazio E noi ci vediamo Al prossimo video Bella vai giù